Si è avvasso della facoltà di non rispondere i 54 anni di Carlantino, Antonio Carozzo, accusato di aver ucciso la moglie 45enne Pietro Nilla De Santis con 41 coltellate. Il fatto è avvenuto la scorsa settimana giovedì nell'abitazione della coppia a Carlantino. Le condizioni psichiche dell'uomo non hanno permesso di poter reggere il confronto con il GIP. L'interrogatorio di garanzia si è svolto ieri mattina nella stanza dell'ospedale dove l'uomo è ricoverato e piantonato dai carabinieri. I medici hanno stabilito per lui una prognosi di 30 giorni. Dopo aver accoltellato a morte la moglie, l'uomo ha rivolto verso di sé l'arma e con la stessa ha provato a ferirsi. Poi si è gettato dal balcone del primo piano dell'abitazione da un'altezza di 3 metri procurandosi delle ferite. Nella giornata intanto sarà disposta l'autopsia sul corpo della vittima.